Si chiamava Marcello Panariello, il giovane morto ieri sera scafati per un incidente stradale che si è verificato nei pressi della strada statale 268. Aveva 22 anni, era alla guida della sua moto quando in via Loporto, per cause ancora da verificare, si è scontrato con un'automobile. Mentre per il giovane Marcello Panariello l'impatto è stato fatale per le gravi ferite riportate nell'impatto che lo hanno portato alla morte quasi sul colpo, per l'amico che viaggiava sulla moto con lui è stato necessario il ricovero d'urgenza in ospedale. Un tremendo incidente costato la vita ad un giovane dell'agro che si aggiunge dopo poche ore alla morte del 35enne poliziotto Michele Avella provocato dall'incidente ieri mattina a Cava dei Tirreni. Al dolore per la morte di Marcello Panariello, la rabbia per la dinamica dell'incidente. L'impatto mortale è avvenuto contro un'automobile che era stata rubata a Cava dei Tirreni qualche sera prima, autoguidata da due napoletani già noti alle forze dell'ordine che sono fuggiti facendo perdere le loro tracce per poi costituirsi qualche ora più tardi presso la stazione dei Carabinieri di Torri Annunziata. Sulla vettura era stata installata anche una targa tedesca falsa. Sono ora in corso comunque ulteriori accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. La prematura scomparsa di Marcello Panariello ha lasciato sbigottita l'intera comunità scafatese. Tanti messaggi di cordoglio che hanno subito invaso la pagina del profilo social del giovane, mentre il sindaco di Scafati, Cristoforo Solvati, ha espresso il suo dolore e la vicinanza alla famiglia. Anche l'ex primo cittadino Pasquale Aliberti ha voluto ricordare il giovane 22enne Marcello Panariello.